Sala stampa del Comunale di Santa Maria La Carità, siamo con Daniele Faricello, post Santa Maria La Carità a Faiano. Daniele, innanzitutto, buonasera. Prima partita del Comunale, saluto di eccellenza, fortunatamente il risultato sorride al Santa Maria La Carità. Il partita è visto dal campo. Buonasera a tutti, è stata una grande partita sotto questo caldo tremendo. Bene l'approccio da parte dei miei compagni di squadra, abbiamo fatto una grande prestazione, siamo andati sotto purtroppo per questi gol difficilmente si vedono. Una palla che si è alzata in aria, che è caduta in porta, ma va bene così, siamo stati molto bravi a recuperarla e far sì che i tre punti siano stati i nostri. Daniele, è stata una partita sudata, una partita fino ai cinque minuti di recupero, è stata fin alla fine. Una squadra ospite molto giovane nella rosa, sia in panchina che in giudici in totali, ma ci ha dato che la torcia è fin alla rosa. Sì, l'oro una rosa molto giovane. E' una squadra ben messa in campo, essendo di tutta giovanità con tanta corsa, ma noi siamo stati bravi a gestire questa cosa e alla fine abbiamo meritato la vittoria.